Sì, sì, è una realtà quella che stiamo costruendo di straordinaria importanza, un'offerta turistico-culturale che è mirata agli appassionati dei giardini e delle piante, che sono tantissimi e c'è un turismo ho scoperto io, floridissimo, quindi è una vena che può portare qui davvero turismo abbondante ma anche di qualità, cioè di gente che non viene qui per un passaggio veloce ad agrigento ma gente che ha curiosità verso la nostra terra, le nostre piante, i nostri giardini, insomma la quali Impetra è uno dei più bei giardini d'Italia, quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo botanico, che è sua maestà l'ortobotanico di Palermo, no? A Palermo, il giardino della quali Impetra nella valla dei Templi e la fondazione radice pura con il suo parco botanico e il suo garden festival che si farà ogni anno, quindi vedete noi costruiamo un'offerta turistica, un circuito che comprende tutta la Sicilia, poi è ovvio che chi va a Palermo, chi viene ad agrigento, chi va a Giarre non vedrà solamente i giardini, ma vedrà quello che c'è intorno, qui la valla dei Templi, a Giarre, a Lettina e a Palermo, la città di Palermo, quindi vedete un pretesto alla fine per richiamare un turismo di qualità e aggiungere finalmente un elemento di qualità al nostro turismo, non mordi e fuggi, non gente distratta, non gente che consuma i luoghi, ma gente che vive i luoghi. Quali i dettagli di questo accordo? Quando partiranno effettivamente queste nuove visite sia al giardino della Colimpetra che nelle altre realtà siciliane? È chiaro che questo itinerario noi lo proporremo al mercato turistico nazionale e internazionale a partire dalle prossime fiere, quindi lo organizzeremo, i termini precisi sono molto semplici, c'è intanto uno sforzo di promozione reciproca, noi faremo conoscere il Recepura Garden Festival all'orto botanico, l'orto botanico farà conoscere il giardino della Colimpetra e il Recepura Garden Festival, quindi una promozione rispetto ai propri visitatori per fare in modo e le informeremo alla possibilità di questo circuito che tra l'altro offre una scontistica, è chiaro che chi fa il circuito non paga il biglietto intero in nessuno dei luoghi, ma pagherà il biglietto ridotto, quindi avrà un vantaggio di questo tipo, un vantaggio quindi in termini di informazione e anche un vantaggio economico. Tornando al giardino della Colimpetra, quali numeri di quest'anno? Ci sono state tantissime visite, ma soprattutto è una realtà che è sempre in continua crescita. Sì, 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 fortunatamente diciamo siamo in continua crescita, siamo qui ormai rotati, pronti ad accogliere i turisti, stiamo sviluppando tutte le nostre nuove attività, tra cui l'escursione dentro l'ipogeo, con l'impetra porta quinta che comincia a funzionare a pieno regime e naturalmente adesso a breve avremo le nostre manifestazioni estive con cui accoglieremo con la musica, con l'arte, con il piacere e con il gusto della nostra terra il sedatore della Valle dei Templi.